le prugne le sono raccolte adesso insieme le prugne le raccolgo qualche pera madura come quando può restare mangiata morbida ok questa è la mia ok 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 ecco qui ecco qui ecco qui ok ok ecco ecco questo è pure buono Queste sono le vere estive. Però maturano man mano, quindi ci dà la precedenza alle pere più mature. Per vedere le pere mature le ho tastate. Queste sono quelle più mature, quindi oggi ho fatto prugne, vedete prugne e pere. Pere estive del mio orto.